ci siamo ragazzi siamo partiti questa è la nostra prova tecnica diciamo prediretta fatemi dare un'occhiata per vedere che tutto sia a posto allora vediamo la qualità della trasmissione è buona voi se mi sentite potete mandare un ok in chat per farmi capire che si sente che stiate vedendo la schermata stiamo per iniziare vedo che già qualcuno lo manda ma siamo in pochini ancora a mandare quell'ok lì vediamo se ne arrivano altri approfittate anche per provare la chat così almeno sapete come funziona ok proviamo con le faccine vediamo se invece dell'ok arriva una faccina vediamo se lo sappiamo fare al volo qualche secondo dopo che l'ho detto vediamo se qualcuno recepisce la funzionalità intanto ci prepariamo a partire vediamo anto l'ultimo ok o grande Aldo solo Aldo Claudio dice ancora ok dobbiamo fare una lezione sulle faccine ecco Michele Guido Sergio grande Sergio che manda la maggiolina italiana grande allora siamo pronti ad iniziare vediamo se schiaccio i tasti giusti eccoci ciao bentornati sul canale youtube di associazione culturale maggiolina questa è la nostra diretta settimanale il momento in cui possiamo interagire direttamente è mercoledì sono le 18 e questo è il nostro momento live diciamo allora prima di cominciare e di raccontarci qualcosa di informatico oggi come avete visto nel titolo parliamo ancora delle email che diciamo che non se ne sa mai abbastanza bene approfitto per salutare Gianfranco ciao Gianfranco grazie per la super chat super chat super sticker super grazie abbonamenti paypal banca eccetera sono per noi fondamentali siamo qui grazie a voi ragazzi per cui grazie 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 infinite per il sostegno che non ci fate mai mancare ricordatevi dopo aver fatto una super chat se è la prima volta super sticker o quello che è che potete passare sul sito associazione maggiolina quindi associazionemaggiolina.it questo è il nostro indirizzo in una pagina che si chiama amici che è di fatto dedicata agli amici sostenitori di associazione culturale maggiolina dove tra le varie istruzioni trovate un modulo di richiesta tessera se vi va di far parte diciamo della comunità e di vedere il sito amici di maggiolina dopo aver fatto tutto questo si può entrare nel sito amici di maggiolina che è il vostro sito il sito dedicato a voi per sapere come funziona tutta questa cosa ancora prima di fare super chat super sticker eccetera ma voglio capire bene si viene sul sito associazionemaggiolina.it amici c'è scritto qui potrei scriverlo direttamente associazionemaggiolina.it slash amici oppure vado su associazionemaggiolina premo su amici e qui facendo scorrere c'è il video come funzionano sito amici e abbonamenti così capiamo bene che differenza c'è tra sito amici e abbonamenti l'abbonato è anche un amico comunque sappiatelo quindi l'abbonamento è un livello superiore alla cosa vedo come funzionano e decido se mi interessa entrare nel sito amici di Maggiolina nel sito amici di Maggiolina cerchiamo di mettere ordine tra tutti i video vediamo di raccontarci un po' di cose e di renderci più facile la navigazione nel canale quindi ci sono vari link corso computer Maggiolina che è quello che stiamo facendo adesso quest'anno il link alle nostre dirette tutti i video degli amici abbonati sia qui che qui gli short i video brevi di Maggiolina l'archivio di tutte le dirette di tutti i mercoledì e imparo a usare il computer in tre minuti che di solito facciamo durante l'estate l'estate scorsa siamo arrivati a un certo punto e ormai adesso è estate probabilmente riprenderemo diciamo con delle pillole da tre minuti tanto per tenerci impegnati e per ripassare un po' allora poi c'è il riepilogo delle ultime due settimane di video diamo un'occhiata a quello che ci aspetta questa settimana allora i primi due video della settimana lunedì e martedì sono stati dedicati alla CIE alla carta di identità elettronica finalmente anch'io sono passato la carta di identità elettronica sappiate che si può fare in qualsiasi momento ho quella cartacea non devo aspettare che scada quella cartacea per fare quella elettronica si può fare sempre per agevolare questo passaggio al digitale dobbiamo snellire un po' tutta quanta la struttura effettivamente io ho aspettato che scadesse perché non avevo mai voglia di andare a prendere l'appuntamento eccetera bisogna andare in comune nel comune di residenza io ho dovuto prendere appuntamento aspettare 15-20 giorni quello che è e poi sono andato e ho fatto tutto quanto e questa ci rende più autonomi è uno speed vabbè è un documento di identità normale quindi adesso finalmente mi sta nel portafoglio perché è piccolina e se l'attivo se l'attivo perché ci sono quelli che si dicono ma no io privacy non la attivi hai solo il documento non la attivi e continui ad andare a fare la fila agli uffici pubblici troverai però meno gente perché tutti quelli che la attivano e usano la carta di identità elettronica ci fanno risparmiare tempo quelle volte che dobbiamo per forza andare all'ufficio pubblico e quindi è un risparmio per tutti abbiamo visto i primi due video ce ne sono degli altri perché l'ho messa in funzione a tutti gli effetti di bello c'è che ci permetterà anche di avere la firma elettronica certificata in quanti mi chiedete ma devo fare la firma elettronica devo spendere a chi la chiedo cosa lo faccio gratis con la CIE puoi firmare i documenti in maniera digitale autenticata sicura certificata tutte queste cose qui e in qualche modo troverò qualcosa da firmare e ve lo mostrerò in alcuni casi mi avete sentito parlare di telefonino NFC è un telefonino che si può appoggiare ai banco ma a tale varie cose e quindi lui è in grado di trasmettere le cose l'abbiamo visto quando ho fatto i pagamenti con l'NFC col cellulare abbiamo visto che è anche più sicuro e questo telefonino interagisce con la carta di identità elettronica perché lo si può appoggiare alla carta di identità perché lei comunque ha questa cosa NFC e quindi di trasmissione dati è un passaggio di sicurezza in più ma lo puoi usare lo stesso se tu non hai il telefonino NFC fa niente devi mettere un codice in più che ti arriva tutte le volte nei prossimi video lo vedrete quindi attenzione la settimana prossima che usciranno altri due video sulla carta di identità elettronica e poi ci sarà qualcosa d'altro ma altri due sono già pronti uno in cui la provo ho imparato a usarla ho capito come usarla l'ho attivata e adesso la provo vediamo cosa ci vuole 30 secondi ci vuole per entrare in un sito della pubblica amministrazione con questa CIE è come lo speed è come lo speed solo che non è in mano ai privati in questo caso perché lo speed è parzialmente in mano ai privati ed è totalmente gratis e non costa non scade non si rinnova devo spendere un tot all'anno è gratis anche quello di poste era gratis in passato poi aspetta aspetta adesso che serve ti fanno pagare l'identificazione quindi non è più totalmente gratis ma a suo tempo quando abbiamo cominciato a parlarne era gratis quindi restiamo sintonizzati su questo argomento visto che lo avete apprezzato bravo Aldo che hai disegnato la riga in chat dopo questo diciamo racconto andrò a leggere la vostra chat e proverò a rispondere alle vostre domande ne leggerò qualcuna anche indietro perché ho visto che dato che mi sono dimenticato avete scritto le domande oggi mercoledì ora della diretta simbolo live sulla copertina parliamo delle email ancora vediamo come rispondere è piuttosto semplice la cosa magari siamo capaci tutti però diciamoci un po' di cose in modo da saperlo fare bene perché ormai le email ci capita di utilizzarle anche con le istituzioni in maniera diciamo abbastanza massiccia ed è importante saperle usare bene perché altrimenti non ti rispondono non ci si capisce eccetera quindi vediamo come rispondere video numero 86 del corso di computer Maggiolina le persone che guardano i video sulla carta di identità elettronica dicono eh ma come è difficile ragazzi è difficile perché deve essere sicuro ma non è difficile forse ti mancano 86 video ancora alle spalle cioè nel senso che un minimo di utilizzo in farinatura del computer ti serve che non è che puoi dire ah da come ho mandato la carta di identità elettronica aspetta che accedo all'Inps così ce la puoi fare ma devi essere molto avanti con la testa se invece ti sei guardato i corsi di computer 1,2,3,4,5 un po' alla volta tutti quanti ci riescono non è che dici ah perché c'è solo un genio dell'informatica gli altri caspita ma come l'hanno fatto difficile invece di perdere tempo a scrivere com'è difficile comincia a guardare qualche video che vedrai che è facile in realtà allora poi lo sfondo degli amici di Maggiolina sono tornati qui sono stato in un posto dove c'era una bella foto da fare con un filtro perché i colori sono un po' più vividi di quello che è nella realtà mi piace molto il filtro pop però meritava questa è la nostra foto ci possiamo premere sopra gli amici di Maggiolina la possono scaricare sul proprio desktop la possono condividere utilizzare nei post eccetera questa è nostra quindi la potete usare senza problemi allora poi cos'altro giovedì Chrome New sapete che abbiamo parlato quindi domani delle novità di Chrome ce n'è una che ci permette di personalizzare Google Chrome una novità fresca di questo momento eccola qua grazie a questa cosa il mio Chrome oggi è così domani sarà in un altro modo eccetera eccetera colori e quant'altro mi è piaciuto penso che lo terrò così per un po' nel senso che questi colori sono così oggi domani sarà in un altro modo ma mi piace un po' di vivacità questa volta è un video abbonati quindi amici abbonati sostenitori eccetera date un'occhiata se volete ravvivare un po' al vostro browser poi venerdì backup semplice uguale sicuro nel senso un backup facile senza bisogno di tante strumentazioni per farlo automatizzate eccetera che abbiamo visto che vanno bene ma quando è ora nel momento del bisogno c'è sempre l'intopo ah si funzionava però ma eh no bisognava il Windows l'aggiornamento e però quel disco lì c'è sempre un problema posso dire che è 30 anni che vivo questa cosa e alla fine c'è sempre un problema e mi avete sentito parlare visto parlare dei backup ultimamente perché anch'io ho cambiato da un sistema che mi sembrava buono che poi quando è cominciato un attimo a uscire dagli schemi perché ma devo portare il computer invece che sempre a casa aspetta che devo uscire ecco che non andava più bene quindi ho smontato tutto visto nei video precedenti e sono tornato a quello che è il backup più sicuro in assoluto lo faccio io su un altro disco e quello funziona sempre su qualsiasi computer senza se e senza ma e quindi nel video di domani vi mostro cosa sono tornato a fare chi mi segue da tanto tempo magari lo sa già però se vuole dare un'occhiata lo trova qui sabato invece torniamo nel mondo online prenotare esami medici online questo è un caso specifico di un ospedale milanese in questo caso e ho apprezzato che loro si sono attrezzati in maniera diciamo si sono dati da fare ci sono tante problematiche nella gestione degli appuntamenti e chi ama ci è occupato e l'operatore eccetera eccetera si sono attrezzati per fare le cose online e come loro probabilmente ci saranno tanti altri ospedali e strutture pubbliche che si danno da fare e quindi quando ci sono queste cose le usiamo le proviamo e le usiamo e qui mi vedete provare questa cosa quindi qui più che quello che faccio fisicamente quindi che evito di telefonare e quant'altro vediamo un po' come applicare un po' di elasticità mentale in una situazione nuova nel senso che tutti i giorni c'è un qualcosa di nuovo che nessuno ci ha insegnato a usare e davanti ieri non c'era oggi c'è cosa facciamo e ci approcciamo abbiamo questi 80 video alle spalle che ci hanno dato un po' di di fondo informatico e proviamo a fare le cose quindi qui mi vedete fare una cosa per me come spesso accade nella serie speciale degli amici abbonati ci siamo ragazzi poi vedo la vostra chat e vado a rispondere poi questi sono i video della settimana scorsa tornerà anche google fogli perché lo stiamo usando molto bene con questo foglio spese di viaggio perché dovremo tornare a viaggiare anche ma saperlo usare eccetera eccetera sotto c'è il motore di ricerca dei nostri video sul nostro canale quindi basta scrivere l'argomento per vedere i video ci sono l'elenco completo dei video degli abbonati il calendario dei video 2023 quindi tutti i calendari tutti i video giorno per giorno giorno per giorno del 2022 i nostri corsi in dettaglio tutti i corsi raggruppati per argomento in ordine cronologico così che se devo seguire il corso su google drive guardo il corso su google drive un video dietro l'altro finché ne ho voglia e così li trovo lì senza andarli a cercare chissà dove ma manca un numero ma questo l'altro eccetera e poi qua ci sono diciamo i nostri momenti social l'ultimo è la smaggiolina on tour quel giro che ho fatto per l'italia a incontrare qualcuno di voi e magari lo estenderemo vediamo comunque intanto qui c'è un po' un resoconto c'è l'album del giro eccetera e questi invece sono gli album fotografici degli incontri precedenti di nuovo come funzionano sito amici e abbonamenti la mappa degli amici che ho consultato per andare a fare il mio giro e poi eccetera gli sfondi desktop maggiolina eccetera eccetera questi sono tutti i nostri corsi o tanti dei nostri corsi e via canale telegram i nostri podcast eccetera eccetera va bene andiamo col discorso delle email come rispondiamo ad una email allora vado ad aprire una nuova scheda vado in gmail perché questa è la mia casella da esperimento e qui ho una email benissimo ne apro un'altra quindi di nuovo nuova scheda eccola qui e vado a prendere yahoo mail sapete che per fare questi video ho attivato anche un account yahoo eccolo qua quindi due caselle di posta elettronica con due gestori diversi adesso ci rimbalziamo un po' di domande e risposte cerchiamo di capire come funziona allora sono in gmail parto ed invio un'email quindi faccio scrivi scrivo a maggiorinatest chiocciolaiahu punto com c'è scritto qui e dovrei ricordarmelo sappiamo che il destinatario lo dobbiamo conoscere non è che lo cerco in giro e se non so l'indirizzo non si fa oggetto richieste informazioni e poi scrivo facciamo finta che il maggiorinatest sia Mario ciao Mario qual è il tuo dolce preferito? questo lo sappiamo già comunque come si scrive qual è? come si scrive qual è Mario? qual l'apostrofo è? sì il tuo no secondo me non ci va l'apostrofo chi lo sa? secondo me non ci va l'apostrofo in questa situazione qua qual è il tuo dolce preferito? punto di domanda Daniele ok qui avrei potuto magari anche a dover usare l'altra e accentata vediamo cosa succede invia qual è? dice ls perfetto quindi ho scritto bene però vedete che c'era il tratteggiato quindi uno è in dubbio no? senza posto brava sere e grazie e quindi a volte il tratteggiato ti trae un po' in inganno il tratteggiato significa errore di ortografia e quindi bisogna fare attenzione ma a volte ha anche torto allora abbiamo mandato una domanda a una persona l'altra per la persona quindi qui è il nostro Mario a un certo punto riceverà questa domanda vediamo se la riceve Mario allora come faccio a sapere se mi è arrivata sta domanda? qua non c'è ma potrei rinfrescare la schermata posso dire senti premo in arrivo per vedere se c'è qualcosa di nuovo ancora no quindi per adesso siamo nelle mani del postino che deve mandare l'email se l'altra persona mi dice ma non arriva non arriva non arriva non arriva forse ho sbagliato io se lei dice che non arriva forse ho sbagliato io allora vado in posta in arrivo quindi scusate vado in gmail io sono Daniele ho sbagliato Mario mi dice che l'email non gli arriva di solito si aspetta un pochino però ok allora controlliamo vado in posta inviata e mi dico l'ho mandata questa email l'ho mandata qui richiesta informazione aspetta che guardiamo allora l'indirizzo era maggiolinatest chiocciolo gmail.com è il mio ok l'ho mandata a maggiolinatest chiocciola yahoo.com ok sembra giusto quindi è pensabile che lui la riceverà questa email a me sembra di averla mandata giusta sappiamo che se non abbiamo mandato correttamente un'email in teoria il postino ci risponde con un'email in inglese mailer daemon eccetera ci dice che qualcosa è andato storto e quindi vedremo se arriva ma di solito sarebbe già arrivata saluto Aldo e lo ringrazio per i suoi 42 mesi di abbonato grazie infinite Aldo grazie 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 torniamo a maggiolinatest di là ragazzi ci serve però l'email allora vediamo posta in arrivo niente qua non si riceve niente va bene facciamo che yahoo mail è giusto l'indirizzo maggiolinatest ok facciamo che yahoo mail quindi Mario scrive anche lui a Daniele quindi scrive a maggiolinatest chiocciolagmail.com lui gli chiede situazione meteo situazione meteo ok e mi scrive ciao Daniele come un'altra roba ancora anche qui come il meteo lì da te punto di domanda Mario invia e anche questo messaggio è stato inviato adesso vediamo se riusciamo a vedere una domanda per poterci rispondere Yolando grande Yolando 42 mesi da abbonato anche per te grazie infinite ragazzi importantissimi per noi questi vostri 42 mesi allora qui c'è posto in arrivo già uno quindi questa è arrivata allora situazione meteo un nuovo messaggio quindi qui è arrivata subito ci premo sopra per leggerla e vedo il messaggio allora quando ricevo un messaggio guardo chi è che me lo manda vabbè qui vedo Daniele Castelletti la manda a me quindi al mio indirizzo se vado qui sopra e lascio stare qualche istante vedo anche che il mittente è maggiorinatest chiocciola yahoo.com ok e quindi so con chi parlo è importante questa cosa adesso posso decidere di fare due cose con le risposte diciamo grosso modo ho tre cose da poter fare due possiamo dire barra tre posso rispondere a questa domanda direttamente perché so la risposta oppure posso passare la palla e quindi il messaggio a qualcun altro dato che io so la risposta rispondo quindi vado su rispondi premo qui quindi non devo scrivere un nuovo messaggio a maggiorinatest yahoo a mario non devo scrivere un nuovo messaggio altrimenti si perde il filo del discorso sulle email c'è rispondi di solito il rispondi è una scritta rispondi ma anche una freccia che dice indietro mando indietro la risposta e qua questa freccia è quindi un doppio comando è un rispondi quindi che io vada a premere qui o che vada a premere qui sempre rispondo se premo sui tre pallini secondo me trovo ancora il rispondi vediamo rispondi eccolo qua quindi ragazzi rispondi freccia indietro un click rispondo cosa succede il computer il gestore di posta sa già chi era il mittente e qui maggiorinatest.yahoo.com e quindi lui provvede già a scrivere l'indirizzo del mittente quindi se quella persona mi ha scritto dal suo indirizzo a me non serve neanche sapere il suo indirizzo la mia risposta torna automaticamente al mittente salvo casi eccezionalissimi in cui il mittente ha fatto dei pasticci con la sua casella di posta ma non riceve le risposte di nessuno in quel caso lì quindi diciamo il 99,99999% facendo rispondi siamo a posto la domanda viene la mia risposta viene inoltre la mia risposta viene mandata correttamente e ricevuta correttamente ok altro discorso qui dove rispondo adesso in questo gestore di posta ho uno spazio bello bianco non c'è scritto niente posso solo rispondere vi faccio notare però questi tre pallini qui puntini premo e premendo sui tre puntini vedo qual era la domanda perché a volte perdo il filo eccetera l'importante è che noi si risponda sempre nella parte alta quindi io adesso ho premuto sui tre puntini ma avrei potuto anche non schiacciarli e scrivere semplicemente la mia risposta e adesso però che ho sott'occhio la situazione come il meteo lì da te posso rispondere ciao Mario allora non coia Mario ma ciao Mario Mario qui il tempo qui il meteo è ballerino si dice da noi ballerino e quindi diciamo che fa bel tempo più volte al giorno un po' come dicono in Bretagna mi ricordo quando sono stato in Bretagna c'era la pubblicità diciamo in Bretagna fa bel tempo più volte al giorno per farci capire che piove ma poi dopo viene bel tempo eccetera quindi ciò che bello dopo che ha piovuto c'era fresco allora e mi firmo Daniele premo invia e fine del mio discorso il messaggio è stato inviato io posso tornare in posto in arrivo posso tornare indietro e qui sono a posto e il messaggio rimane qui grande Benedetto grazie infinite per l'uso della super chat Benedetto usa la super chat per mandarci un sostegno grazie infinite e ha l'occasione con la super chat super chat serve per mandare anche un messaggio quindi è un messaggio in chat super perché contiene anche un contributo dice buon pomeriggio Daniele e buona diretta a tutti i maggiolini quindi lo dedica a tutti allora torniamo in posto in arrivo al nuovo messaggio qui c'è un 1 e sarà arrivato un messaggio premo qui perfetto situazione meteo c'è un 2 qui in realtà bozze 2 situazione meteo vabbè vediamo il 2 secondo me è per dire che c'è un botta in risposta allora qui non c'è niente di particolare di solito c'è questa situazione allora vediamo che questo è l'oggetto e spesso quando mi rispondono il gestore di post che risponde aggiunge una re una risposta una re che sta per respond re o r basta che sta per risposta per farmi capire che questo messaggio è in risposta a qualcosa che avevo scritto io Yahoo non usa questa cosa o Gmail non usa questa cosa quindi la re qui non c'è però c'è scritto io e Daniele quindi probabilmente mi fa capire che siamo i due interlocutori siamo noi va bene apriamo il messaggio e lo leggiamo apro il messaggio vedo che il messaggio ciao Daniele com'è il meteo lì da te Mario questo sono io anche se mi sono scritto Daniele Castelletti da tutte e due le parti e questa è la risposta quindi qui mi offrono una situazione di questo genere in Yahoo prima vedo la domanda e poi vedo la risposta ciao Mario io qui il meteo è ballerino diciamo che fra bel tempo più volte al giorno Daniele rispondi rispondi a tutti e inoltre ci ragioniamo il rispondi serve per dare una nuova risposta metti mai che Daniele mi avesse chiesto qualcosa di nuovo avrei bisogno di rispondere ma non lo ha fatto quindi il discorso finisce qua e sono curioso di vedere in spam se per caso la posta che abbiamo mandato prima è finita in spam premo ed eccolo qua richiesta informazioni quindi abbiamo un esempio pratico dello spam cosa è successo in questo caso che Daniele Castelletti ha inviato un'email a Mario Mario non la riceve e ma te l'ho mandata ma non l'ho ricevuta ma te l'ho mandata ma non l'ho ricevuta allora chi la manda si mette in dubbio va in posta inviata controlla l'indirizzo verifica eccetera chi la riceve chi dovrebbe riceverla va in spam va nella cartella spam perché ammetti mai che il suo gestore di posta per qualche motivo abbia pensato che quell'email lì è spazzatura è pubblicità è fraudolenta eccetera la mettiamo in spam quindi la cartella spazzatura è lì apposta non viene cestinato direttamente questo messaggio ma viene messo da parte di modo che ogni tanto tu puoi andare a vedere e capire le cose abbiamo trovato il messaggio quindi abbiamo svelato il mistero ci premo sopra vedo il mio messaggio posso dire che non è spam non è spam ascolta gestore di posta non è spam questo messaggio quindi questo omittente questo messaggio non è spam imparalo perché mi crea un disagio in questo caso non è spam arrivo perché è finita lì eccola qua quindi Daniele Castelletti richiesta informazioni ciao Mario qual è il tuo dolce preferito perfetto premo qui allora gli rispondo a Mario ciao Mario qual è il tuo dolce preferito so che lo sapete già allora rispondi freccia indietro rispondi a tutti dobbiamo ancora capire cos'è ce lo diciamo tra poco e inoltre manda avanti il messaggio a una terza persona adesso lo facciamo rispondo quindi per adesso risposta classica anche qui spazio bianco la domanda la vedo qui quindi i gestori si comportano diversamente ma io rispondo qui in spazio bianco non devo scrivere l'indirizzo né niente perché è una risposta allora il mio dolce preferito mio dolce preferito è la torta di rose torta torta di rose daniele e il tuo e il tuo allora ps e non è e il tuo tiriamo a indovinare qual è il suo invia ok il messaggio è stato inviato perfetto dall'altra parte daniele intanto è bello tranquillo che si fa i fatti suoi ed è qua riceve il messaggio richiesta informazioni e di nuovo guarda allora ciao mario qual è il tuo dolce preferito il mio dolce preferito è la torta di rose e il tuo ah ok allora rispondo e vado a dire il tiramisù quello non si sbaglia mai perché se uno gli chiedi se gli piace il tiramisù dice di sì allora tiramisù ciao io sono daniele e siamo a posto così poi finiamo con questo discorso va e vieni finito il discorso allora poi andiamo a vedere andiamo a vedere il metodo intanto alessandro dice come qua adesso allora ok a posto ci siamo discorso rispondi a tutti che è importante allora torniamo da capo scrivo un nuovo messaggio scrivi quindi daniele scrive un messaggio a maggiolinatest chiocciolaiau.com vediamo se il computer di maggiolinatest ha capito che non siamo spam ma lo scrive anche a info info chiocciolassociazione maggiolina.it perché questo messaggio ha due destinatari quindi attenzione sto scrivendo a due amici ne abbiamo parlato un paio di video fa queste due persone si conoscono e quindi è lecito che io scriva i loro indirizzi tutti e due in A perché si conoscono sono amici siamo un gruppo e chiedo una cosa ad entrambi loro allora oggetto cena maggiolina cena maggiolina ciao ragazzi quindi parlo al plurale perché mando un messaggio a due persone ciao ragazzi siete disponibili mercoledì facciamo così intanto grazie a benedetto l'avevo già salutato prima poi leggo la vostra chat siete disponibili giovedì che è domani 15 giugno per la cena per la nostra dove è qua adesso ho fatto dei pasticci qua lui cerca di aiutarmi ma no lasciami stare che mi fai confusione per la nostra io faccio finta di niente nostra cena sociale punto di domanda è alle 21 è alle 21 daniele e invio il messaggio invio un messaggio multiplo due persone riceveranno questo messaggio adesso andiamo dall'altra parte attendiamo che il messaggio sia stato inviato andiamo dall'altra parte qua non c'è vado in posta in arrivo non c'è vado in spam e c'è in spam qui maggiolina anche se ho detto che non è spam me lo mette sempre qua come si fa in questo caso non ne ho la minima idea ragazzi perché fa lui e non ho idea ho più di dirgli non è spam non lo so allora qui ci sono le richieste informazioni il tiramisù quindi vado a aprire per la tua sicurezza abbiamo disattivato il link in questa email se ritieni che il contenuto sia affidabile segna questo messaggio come non spam e va bene seconda volta che lo facciamo cena maggiolina anche qui sempre non spam terza volta andiamo in posta in arrivo prima di vederci l'altra pubblicità e cena maggiolina benissimo apro come mi comporto in questo caso guardo chi chi è il destinatario di questo messaggio e il destinatario è Daniele Castelletti quindi maggiolina test chiocciola yahoo.com sono io qui yahoo non dice a me dice a Daniele Castelletti e se ci vado sopra vedo l'indirizzo quindi yahoo non mi dà del tu non mi dice a me e anche infoassociazionemaggiolina.it due destinatari qui c'è scritto a quindi due destinatari e quindi in caso di due destinatari è normale che io possa scegliere tra rispondere solo al mittente solo al Daniele vero oppure a tutti nel senso che questo messaggio può andare solo a Daniele a chi mi ha chiesto dici Daniele ragazzi siete disponibili per la cena io posso dire no domani non posso sono a Milano ok e lo dico solo a Daniele con rispondi rispondo solo a chi mi ha chiesto se però voglio far vedere a tutti che sono a Milano e quindi perché mi dispiace spero che altri dicano ma no dai allora si manca Daniele si manca Mario perché io qui sono Mario si manca Mario non facciamolo dai perché è tutto troppo simpatico allora uso il rispondi a tutti così facendo il rispondi a tutti anche infomaggiolina vede che Mario mancherà fate pure la cena ma Mario mancherà e quindi io scrivo mi dispiace ragazzi dispiace ragazzi R grande visto che siamo amici ragazzi ma domani ho già un impegno impegno si può fare un altro giorno punto di domanda Mario e Mario invia questo messaggio a due persone il mittente quindi maggiolinatestgmail.com e infossociazione maggiolina perché quello ha ricevuto il messaggio anche lui perché era già in ballo sui discorsi e quindi il rispondi a tutti serve per condividere questa cosa per fare tipo una chat di gruppo quindi qui c'è una nuova risposta e vediamo che Daniele Castelletti adesso tutti questi Daniele fanno confusione purtroppo ma Mario ha detto che lui non c'è ragazzi non c'è vediamo se la casella di posta maggiolina ha ricevuto la cena di Mario la casella di posta maggiolina la riceve in separata sede riceve due email la apro e poi ve la faccio vedere vi faccio vedere la intera questa qui la casella maggiolina riceve due email questa e a me quindi a ruba questa è la casella maggiolina è con aruba aruba dice a me Daniele Castelletti è info associazione maggiolina punto it e a un'altra persona Daniele Castelletti chissà se vedo l'indirizzo se primo sulla freccina sì allora Daniele Castelletti è maggiolina testiau punto com e il me è info maggiolina punto it troppi Daniele Castelletti in questo video e quindi vedo che si è scelto di fare questa cena e dico posso andare voglio andare eccetera poi mi metto di qua per sempre per questione di privacy di tutti quelli che mi hanno mandato messaggi in questi giorni poi ho ricevuto un'altra email in risposta che andiamo a vederla e adesso ci ragiono sopra questa bisogna leggerla con un po' più di intelligenza perché a questo punto vedo che c'è un re è una risposta alla cena maggiolina ma io mica ho risposto e qui vedo che è stata mandata a me e a vediamo chi è l'altro a gmail quindi maggiolina test gmail mi dispiace ragazzi ma domani ho già un impegno si può fare un altro giorno Mario ah ok quindi a questo punto se io non centro niente con l'organizzazione sto zitto non serve che io risponda eccetera perché altrimenti facciamo un pasticcio però posso comunque intervenire posso rispondere magari rispondo direttamente al mittente e dirgli ma no dai facciamo venire anche Mario oppure faccio un rispondi a tutti e dico ma no Mario ma mi dispiace ma ci dispiace ci mancherai a tutti non ce la fai proprio e quindi insomma attenzione a questo discorso rispondi rispondo solo al mittente rispondi a tutti rispondo a tutti tutti quelli che sono in A ricevono questa risposta ed è facile fare confusione ok ultimo esempio poi ci dedichiamo alla chat prima che sia tardi nella giornata allora nuovo messaggio facciamo che lo scrive Yahoo qui perché altrimenti siamo sempre in spam scrivo a maggiorinatest maggiorinatest gmail.com quindi a Daniele chiedo informazioni sito maggiorina sito maggiorina e dico ciao Daniele non riesco a trovare trovare il video video numero 215 mi puoi aiutare punto di domanda Mario premo invio e ci siamo messaggio inviato vado in qui c'è scritto cena maggiorina perché è l'ultima email che c'è aperta ma vado in posta in arrivo di gmail e vedo Daniele riceve questo messaggio e dice Mario mi scrive e mi dice non riesco a trovare il video numero 215 mi puoi aiutare ok allora io mi dico calma ragazzi posso aiutare Mario ma adesso questo compito lo fa una terza persona lo fa Paolo di associazione maggiorina lui che intiene i rapporti con tutte le persone sto inventando non che adesso cominciate a scrivere a Paolo perché non c'è ancora nessun Paolo e dico vabbè compito di Paolo fa lui inoltro il messaggio inoltro e scrivo a Paolo Paolo Maggiolina piocciola gmail punto com sto inventando non facciamolo ragazzi altrimenti facciamo pasticci e dico Paolo puoi pensarci tu per favore puoi pensarci tu per favore guarda che me lo scrive lui ok e poi non me lo fa poi per favore punto di domanda Daniele la chiudo qui ci sarebbe un discorso lungo ma non voglio farlo adesso sull'inoltro semplicemente io invio questo messaggio ora non lo faccio perché Paolo non esiste quindi avrebbe un pasticcio ma rimbalzo il messaggio a una terza persona quindi Paolo sul suo computer sul suo telefonino sul suo tablet nella sua casella di posta perché ormai le caselle di posta le leggi dappertutto nella sua casella di posta vede tutta la storia vede che Mario ha scritto Daniele e che Daniele ha chiesto a Paolo di rispondere e quindi lui provvederà a rispondere quindi quando abbiamo a che fare con un messaggio che abbiamo ricevuto possiamo rispondere al messaggio rispondere a tutti le persone coinvolte in quel messaggio a tutti quelli che l'hanno ricevuto compreso quello che me l'ha mandato o posso inoltrare il messaggio ad una terza persona quello non è una risposta quindi è un po' strano non c'entra niente con la risposta ma ce lo diciamo subito posso inoltrare il messaggio a una terza persona direi che ci fermiamo qua sull'inoltro c'è tanto da dirci ma c'è tanto da dirsi ma non abbiamo più tanto tempo quindi ci ragioneremo in un'altra occasione torniamo sul sito amici di Maggiolina e leggiamo le vostre domande quindi torno qui in chat disegno una riga saluto Antonio che intanto ha cancellato il suo messaggio allora torno indietro un po' di più perché c'era qualcuno che ha scritto di più ciao ti sento e ti vedo dice Francesco ciao Anna ciao Franco ciao Vanni ciao Brugio ciao Edo e poi Laura dice sta parlando con Anto va bene ciao Mario buonasera un saluto a tutti i partecipanti Alex su Gmail quando archivi un messaggio dove finisce e chi è che lo sa c'è questa cosa qui dell'archivio nel mondo Gmail nel mondo Google archivio una foto archivio questo scompare tu non la trovi più da nessuna parte se vuoi cercare un messaggio che hai archiviato cioè se io prendo un messaggio e lo archivio questo qui lo archivio come si fa? allora sposta in etichette posta in arrivo potrei provare sposta in e c'è archivio? no tre pallini disattiva aggiungi evento dove lo trovo archivio? ah questo perché non ho ancora inviato sono un posto in arrivo questo era un messaggio ancora strano prendiamo questo cena maggiolina lo archivio vediamo se ce la faccio sposta in avrei detto qui ma non c'è tre pallini segna come da leggere segna crea filtra disattiva inoltre tutto questo archivia e quel messaggio lì sparisce ragazzi non capisco me lo tolgono da qua non c'è più però presumibilmente occuperà spazio lo stesso perché se non occupasse spazio avrebbe senso archiviare i messaggi diversamente no non ci vedo tanto senso si è in archivio ma non lo vedo più se lo voglio vedere lo devo cercare quindi se io devo riperire quel messaggio lì devo ricordarmi qualcosa di quel messaggio lì perché se è stato archiviato e non mi ricordo che cosa si diceva non mi viene più fuori io l'unica soluzione che ho trovato è stata andare in altro tutti i messaggi e allora qui lo trovo cena maggiolina quindi questa è una cosa ma tutti i messaggi ragazzi se ne ricevo tanti hai voglia trovarli oppure in cerca nella posta scrivo cena maggiolina e lui mi dice se esiste un cena maggiolina è qua 18.32 in teoria è questo premo qua e riperisco il messaggio e qui mi dice archivia di nuovo per cui non lo so questo da dove arrivi questo messaggio qua quindi l'archivia per me è sempre un mistero ma vedo anche per altri comunque so che di solito vado in tutti i messaggi oppure lo cerco così finché quel messaggio salta fuori non archivio mai niente perché ho paura poi di non ritrovarlo più nel senso che sparisce la cosa allora poi vediamo un po' che cosa si dice dunque Vanni Brugio Edo ok Laura abbiamo visto Alex ok Nadia ciao Nadia ciao 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 Silvana dice buonasera ho visto una pubblicità dice di scaricare un sito browser chi è meglio di Chrome non annunci fastidiosi un consiglio grazie provate io non l'ho mai usato ragazzi c'è chi dice che va bene c'è chi dice meno si prova sono novità si prova magari le proveremo anche noi io non sono così entusiasta delle novità però ci sono e quindi proviamolo in due mi avete detto che va meglio proviamolo a un certo punto mi proverò anch'io buonasera Maggiolini dice Jean Paul ciao Jean Paul Paolo ciao Daniele buonasera a tutti ciao Paolo Francois dice scusa Daniele ma leggevo mala invece è ma la carta d'identità si può rinnovare a partire da sei mesi prima della scadenza a meno di furto o smarrimento si allora la carta d'identità non è che puoi dire la voglio nuova perché c'è una foto di cent'anni fa no no la voglio nuova no o sta per scadere o l'hai persa l'hai persa significa che vai a fare denuncia dai carabinieri in questura dov'è poi con la denuncia vai in comune e dici l'ho persa e me ne danno un'altra però questo è un momento di transizione si vuole andare verso questa digitalizzazione quindi per agevolare i cittadini e per portare avanti questa transizione senza aspettare magari uno l'ha appena fatta o l'ha fatta da poco o cinque anni dieci anni quello che è te la fanno subito e attenzione che magari non tutti potrebbero dire di sì magari se siete un po' titubanti vi dicono no no sì la tenga pure non si preoccupi eccetera eccetera per non farvi fare tanta confusione magari pensano di avere a che fare con qualcuno che non sa bene quello che fa eccetera eccetera pensiamo a persone anziane eccetera che magari se ti poni titubanti e dici ma ti vuoi rinnovarla o va bene no no va bene ancora anche quella lì va avanti finché vuoi però se tu la vuoi nuova puoi chiedere che te la facciano nuova perché da più fonti mi è stato confermato che la puoi fare quando vuoi quella nuova dopo aspetti che scada per rifarla però per passare dalla vecchia alla nuova puoi farla quando vuoi saluto Sergio saluto Maria ciao Yolando Edo dice Daniele come ti dissi anche qualche tempo fa io non riesco a vedere le tue risposte non so se anche oggi hai dato qualche risposta ma io non la vedo mai mi sai dare un'idea su cosa mi è successo però risposte di che cosa della chat eccetera io ad esempio non ho visto tue domande quindi adesso non riesco a ricollegare il discorso e non lo so in sostanza il discorso delle risposte risposte a cosa e comunque non saprei non saprei darti darti un suggerimento posso dirti quello che capita a me per quanto riguarda i commenti quando voi mi scrivete qualcosa in un video mi mandate un commento io quel commento lo vedo lo leggo potrebbe esserci qualcuno che non vedo se ne arrivano tanti eccetera ma a me pare di leggerli tutti e di vederli tutti probabilmente chi ha molti più commenti fa più fatica però a me sembra di vederli tutti anche se ogni tanto spulciando dico questo non ho mai letto e comunque di solito li vedo tranne che non siano stati per qualche motivo filtrati perché magari l'utente è bloccato perché magari contiene parole che è meglio non scrivere contiene link contiene cose strane eccetera e viene messo da parte ma io li vedo tutti se io quel commento rispondo dopodiché non ne vedo altri cioè se voi mi ririspondete io non lo vedo più quel commento lì perché ho un filtro che mi permette di vedere solo i commenti nuovi perché altrimenti se devo guardare anche se devo continuare a vedere tutti i commenti vecchi quelli nuovi le risposte eccetera non ne usciamo più e per vedere anche quei commenti la risposta devo disattivare il filtro commenti a cui ho già risposto per cui questo potrebbe essere un motivo però dipende dall'ambito in cui nell'ambito in cui ti stai riferendo e io nel mio caso in youtube ho la mia finestra di gestione dove tra i commenti c'è il filtro commenti a cui non ho risposto e quindi vado a vedere lì mentre invece se ho una risposta a un commento voi dovreste riceverla anche via email a meno che non ci sia lo spam non ci sia qualcosa quindi commentate qualcosa a un video quando io rispondo voi dovreste vederlo anche sulla vostra casella di post elettronica Piero buonasera grazie Daniele Andrea ciao ciao Andrea LS qual è? mi dice come si scriveva Sere mi dice come si scriveva Cristina è appena arrivata ciao Cristina Tiziano ciao Daniele dice là per quanti anni è valida la carta di identità elettronica e come la mandano a casa per posta si ritira in comune allora Tiziano non ho idea di quanto sia valida in realtà potrei prenderla e guardare la data di scadenza e so che adesso scade il giorno del tuo compleanno perché hanno facilitato la cosa così ti ricordi infatti ho compiuto gli anni nooo mi scade la carta di identità e quindi dopo sono andato a farla e penso dieci anni però non lo so non ho guardato io ero rimasto dieci anni non lo so come si fa? allora per farla si va in comune io nello specifico ho dovuto prendere appuntamento presso l'anagrafe del mio comune per telefono mi hanno detto vieni il tal giorno alla tal ora mi sono presentato ho fatto tutte le cose impronte digitali anche in questo caso che mi sono anche stupito e poi mi hanno chiesto come la vuoi ricevere la carta di identità perché ti viene mandata in busta chiusa con dentro i codici quindi nessuno la guarda quella carta lì perché è per questione di privacy a parte quello che infila nella busta attualmente che non sarà manuale e lui mi ha chiesto la vuoi ricevere a casa o la facciamo ricevere in comune fermi tutti la voglio ricevere in comune perché non voglio rincorrere il postino la raccomandata eccetera perché qui stare attenti al postino la raccomandata se ti sbagli di 10 secondi invece del postino con la raccomandata ti trovi il foglietto vieni il tal giorno tra 5-6 giorni a prendere la raccomandata vai in questo ufficio postale vai nell'altro eccetera no la voglio ricevere in comune quindi ho scelto così il comune mi ha dato un'email mi ha mandato un'email sì un'email perché fornisci l'email con un codice QR inquadrando e un foglio di carta insomma inquadrando quel codice QR io sapevo se la carta d'identità era arrivata oppure no e mi hanno detto guarda fine settimana c'è era lunedì e fine settimana c'è e venerdì c'era poi io sono andato a ritirarla più avanti sono andato là di persona e mi ha guardato in faccia nel senso che sapeva chi ero ha guardato i documenti e mi ha dato la carta d'identità in busta chiusa e poi fine così però la si può far mandare anche a casa io ho preferito evitarmi i giri in posta che pure è di fronte a casa mia ma per me era più un problema e quindi sono andato in comune a prenderla Yolando abbonato da 42 mesi l'abbiamo già ringraziato Yolando Alex 128 mi piace ragazzi se qualcuno gli scappa un mi piace in più grazie devi aggiornare la pagina dice quando non ricevevamo l'email allora Jean Paul dice 196 spettatori e metà like e allora dice Jean Paul hai ragione Jean Paul sono d'accordo con te 157 ah no sono gli spettatori 162 in questo momento Francesco dice caro Daniele ma se ci fosse l'avviso di lettura oppure qualche estensione da mettere su gmail sapremo se l'email viene letta allora non c'è perché è una cosa vecchia antiquata eccetera ragazzi mandi un whatsapp se vuoi sapere se è stata letta oppure no l'avviso di lettura non serve perché non è affidabile tu puoi mandarmi un'email io la leggo e tu nell'avviso di lettura non lo vedi perché scelgo di non fartelo vedere o perché il mio computer per una questione di sicurezza nel senso che riceve un'email e automaticamente deve fare qualcosa mandare un'altra email molto sospetta questa cosa si sa che è l'avviso di lettura ma in tante situazioni no magari è un virus che parte alla volta di qualcun altro quindi basta con questa cosa dell'avviso di lettura si fa la PEC e si ha questa certezza qui diversamente mandi un messaggio ti accerti di aver scritto l'indirizzo giusto di aver scritto correttamente il messaggio di non aver scritto tutto in maiuscolo di averci messo l'oggetto eccetera e se ti risponde l'ha ricevuta se non ti risponde provi a scrivergli ancora tutta al più e vedi che cosa succede allora poi benedetto ci sono persone che mandano veramente tante email di 150 pagine che serve una persona assunta solo per leggere tutta quella cosa lì e quindi sappiate che a volte se non ricevete risposta è perché magari siete un po' prolissi che per dire una cosa partite dall'infanzia eccetera e quindi attenzione perché appunto le aziende hanno qualcuno che risponde ma ragazzi non è sempre facile allora benedetto Alessandro come qua adesso variabile era il meteo la rosa della torta contiene anche le spine no è molto buona Sergio se ti capita di mangiarla Alex ciao Daniele oltre a gmail è ok usare anche la posta di Outlook certo è ok usare anche la posta di Outlook ce ne sono tantissime persone che la usano a me non piace infatti non mi vedete mai usarla però è ok assolutamente ok come vabbè Yahoo questa volta è un caso perché non l'avevo mai usata non uso vedete che c'era la pubblicità a me dà fastidio la pubblicità soprattutto perché faccio i video e quindi non posso mostrare la casella di posta e deve saltare fuori un video pubblicitario come quello di oggi per esempio e quindi gmail mi sta bene ho l'account oppure Aruba mi sta bene ho l'account lì c'è qualche pubblicità ma poca 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 è solo loro e quindi va bene così Anto dice a me l'inoltro a terze persone crea caos col raggruppamento delle chat insieme ma si può disattivare vero vedo che non è una domanda vero infatti è meglio disattivare secondo me allora Cinzia questa mi sarà utile spesso con le risposte alla mail faccio confusione quando è un dialogo con diverse email e a un certo punto riparto da zero altrimenti vado in confusione grazie ma è anche perché magari si è in tanti a rispondere e viene fuori proprio un pasticcio Francesca ho capito conviene firmare anche le risposte in quanto il destinatario potrebbe inoltrarla così non si creano equivoci questa è una grande verità se l'avessi detta io sarei stato furbo di questa cosa in questo momento in questa cosa oggi ci ha salvato Mario quando io scrivo ogni domanda o ogni risposta mi firmavo perché l'indirizzo email non è aspettate che spengo climatizzatore perché c'ho freddo il ventilatore non il climatizzatore dicevo l'indirizzo email l'indirizzo che tu hai non è automaticamente il tuo nome e cognome non fa capire automaticamente chi sei quindi soprattutto nelle risposte e a maggior ragione nelle risposte multiple gruppi vai e vieni firmarsi sempre così che Mario ha scritto questo lo vediamo bello lampante qui quindi brava Francesca perché è veramente importante e io non l'avrei detto allora Michele dice l'argomento è molto interessante ma purtroppo devo uscire grazie per tutto alla prossima ciao Michele magari ormai non ci senti più ma magari guardi la registrata Dario dice ottima lezione ogni volta imparo qualcosa di utile nuovo saluti grazie Dario capita anche a me comunque aspettate che mi è scappata avanti la chat allora vediamo eravamo a Dario eccolo qua Giuseppe dice fatto anche dieci volte non spam non c'è niente da fare è un mistero quella cosa dello spam Cosimo sono nuovo ciao Cosimo ben arrivato grande che hai anche scritto bravo ciao Loris poi vediamo che i nostri moderatori sono entrati in azione bravi Silvana dice io uso di solito Yahoo però la facciata è un po' diversa in alto è tutto spento in alto è tutto spento sotto non ci sono frecce c'è una scritta vietato pubblicità da gennaio eccetera bisogna vedere che tipo di browser utilizzi eccetera quindi le situazioni possono essere strane possono essere diverse più che strane Osvi ciao Osvaldo dice la posta di Aruba è a pagamento grazie allora quella che uso io sì perché è quella anche del sito associazionemaggiolina.it quindi noi paghiamo e di conseguenza abbiamo anche un indirizzo di posta personalizzato infatti il mio il nostro indirizzo è info chiocciola associazionemaggiolina.it quindi il nostro dominio non nomi gmailia o libero eccetera quindi è il nostro diretto e li paghiamo non so se abbiano anche la posta gratuita non mi sono mai informato ma basta fare www.aruba.it e lì si vede se chiedete una casella di posta che nome vi danno se è a pagamento oppure no allora Rocky dice a che ora è la pizziata alle 21 Rocky allora poi è donato utente abbonato da 42 mesi grande grande donato grazie infinite Diego dice Daniele e tutta la chat top grazie grazie infinite a parte di tutti Diego Gabriele buonasera è obbligatorio attivare la carta d'identità elettronica cosa succede se non si attiva non è obbligatorio tu hai la tua bella carta d'identità elettronica perché adesso ti danno solo quella non è che dici voglio quella di carta adesso c'è quella lì la tieni nel portafoglio quando te la chiedono da qualche parte gliela fai vedere e basta tu online puoi non fare niente quella serve solo per accedere ai vari servizi online se la attivi quella è l'identità l'identità digitale se non la attivi tu continui ad andare negli uffici preposti se ti fanno fare la cosa perché ormai alcune cose sono solo online ma va bene così non c'è quindi non c'è neanche senso dire mai difficile ma io non mi fido no no te la tieni nel portafoglio la usi come quella di carta e sei a posto e posso comprendere questa situazione e va bene così Francesco caro Daniele ci sono estensioni abbiamo già visto ha riproposto il messaggio Arcangelo dice ciao una domanda quando invio un'email a un utente A e per CCN A utente B la risposta da utente A viene visualizzata da utente B che era il CCN non lo so ma secondo me no perché il CCN non arriva nel computer dell'utente A CCN è copia conoscenza nascosta quindi il computer il messaggio non contiene l'informazione di quel destinatario nascosto e quindi secondo me non arriva magari faremo una prova ma secondo me non arriva perché altrimenti sarebbe troppo facile scoprire il CCN quindi non sarebbe sicuro il CCN ma secondo me non arriva quindi ti dico di no non ho mai provato non mi sono mai chiesto la cosa non ho mai provato allora poi Rocky ha ritirato il messaggio ciao Paola Edo risposta che dai nella chat in diretta agli utenti non solo a me ah no ragazzo Edo non vedi la risposta perché le do solo a voce le risposte se voglio dare una risposta ho tre pallini e scrivo rispondi no rimuovi no 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 vediamo forse devo far scorrere no non ho il rispondi a disposizione in questa funzione qua quindi non siamo in domande e risposte vediamoci provo ci clicco sopra vai al canale sostituisci messaggio segnala rimuovi metti in time out nascondi rimuovi dai moderatori no 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 rispondi in passato secondo me c'era se io voglio risponderti scrivo adesso faccio la risposta Edo vado scrivo chiocciola Edo lui mi dà il tuo nome utente e poi vado a scrivere questa è la mia risposta questa è la mia risposta risposta primo invio il messaggio è l'ultimo in fondo quindi io adesso sono indietro non lo vedo l'ultimo messaggio adesso sarà una as maggiolina che dice Edo questa è la mia risposta però non rispondo mai nel senso che parlo a voce o dico ciao ben arrivato eccetera forse quelli ti mancano e se non li vedi non lo so perché perché non vedi questo messaggio e non ho idea di cosa possa essere quindi se qualcuno lo sa magari lo dica e tu magari scrivi in fondo che poi vado a vedere se hai risposto allora Rocco dice ciao Daniele molto bravo come sempre grazie Rocco ciao Felice che ci saluta ciao Franco ciao Sergio la CES cade dopo dieci anni bravo grazie Sergio Federico buonasera a tutti e a tutte buona serata e un grosso grazie al nostro Daniele che ci dà sempre nuovi stimoli grazie poi un po' di messaggi moderati Beppe dice non capisco come Gmail gestisce i messaggi quando risponde al mittente vengono spediti anche gli allegati ad eventuali messaggi inoltrati per rispondere è un discorso e inoltrati è un altro non ho mai provato avrebbe senso che inoltrasse anche l'allegato proveremo ma non ne ho idea non ho mai non ho mai provato allora la PEC mandata alla pubblica amministrazione non ti assicuro una risposta dipende da chi trovi dall'altra parte con Outlook si può tranquillamente archiviare che non sparisce nulla dice Francesca Benedetto dice arrivo in ritardo vedrò la registrata domani sera a tutti ciao Benedetto ciao Antonio allora niente l'orario è un po' passato faccio scorrere vado giù in fondo Francesco dice sul backup se non ho se non ho niente sul pc conviene farlo beh assolutamente allora non vediamo la risposta di Edo per cui forse non ecco qua Edo vedo la mia risposta vediamo la mia risposta a Edo questa è la mia risposta però dopo non vedo Edo eccolo qua Edo non lo vedo non vedo neanche i tuoi ciao tutto quello che scrivi non lo vedo in precedenza ti vedevo e il tuo nome as maggiolina lo vedevo evidenziato in giallo infatti era così quindi o mi hai bloccato in qualche momento però non so dirti dove dove puoi andare eventualmente a sbloccarlo non lo so ma mi informerò per cercare di cercare di dirtelo ok direi che che ci siamo saluto anche il nuovo abbonato grazie grande infinite quindi ci siamo posto così ragazzi per cui vi aspetto domani a vedere i nuovi video domani venerdì sabato domenica forse esce anche un video forse sapete che domenica scorsa è uscito vediamo se riesco a farmi uscire uno anche domenica altrimenti sarà lunedì però rimanete online rimanete connessi mettete mi piace iscrivetevi al canale abbonatevi al canale perché per noi è importante ci vediamo alla prossima live ma sul canale tutti i giorni c'è un video quindi vi aspetto ciao ragazzi buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti